Nazra, il primo festival italiano di cortometraggi dedicato alla Palestina, sarà a Napoli dal 18 al 21 ottobre sotto il patrocinio del Comune di Napoli. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il festival ha attraversato l'Italia raccontando le storie e le esistenze di quelle persone che vivono sotto occupazione attraverso i lavori di autori palestinesi e non palestinesi. A Napoli il festival incontra le scuole in due mattinate di proiezioni al PAN con la partecipazione di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Nazra Festival, che è un partenariato internazionale, nasce appunto da questo protocollo d'intesa fra Assopace e Palestina, Restiamo Umani con Vic, Anemic ed Ecole Cinema, cerca appunto in questo modo di aprire lo sguardo del popolo italiano in generale su quella che è una realtà poco raccontata dai media nazionali e lo fa con questa modalità insomma molto piacevole attrattiva. Nazra in arabo significa proprio sguardo e l'idea che questi cortometraggi con la loro velocità, perché sono anche non solo documentari ma anche cortometraggi di animazione, potessero essere un modo per aprire quindi lo sguardo, gli occhi dei nostri ragazzi, dei nostri giovani su quelle realtà che appunto non sono spesso raccontate così come dovrebbe essere, cioè nella loro verità più profonda, a noi è sembrato non soltanto necessario ma anche da un punto di vista proprio educativo molto utile, utile perché i ragazzi hanno poche occasioni per potersi confrontare con queste realtà. I ragazzi delle scuole assegneranno il premio giuria giovani fra i corti in concorso, mentre le donne detenute nel carcere di Pozzuoli attribuiranno il premio oltre le mura. La serata conclusiva con la premiazione si terrà il 21 ottobre alle 17 nel complesso di San Domenico Maggiore. Parliamo di Palestina e direi di ragazzi, di ragazzi ad altri ragazzi e di una vita normale tra virgolette in un paese che in realtà paese non è purtroppo perché non c'è neanche sulla nostra mappa geografica. È un modo diverso anche di conoscere qualcosa che purtroppo non conosciamo neanche noi adulti veramente, è un desiderio di pace, di normalità in un popolo che purtroppo non ha né pace né normalità. Il programma completo del Nazra Palestine Short Film Festival su www.comune.napoli.it Grazie a tutti.